C'è chi ha perso un figlio e si mette a disposizione di altri per sostenere il percorso più difficile che c'è. Ci sono gruppi di preghiera, ci sono coppie che si mettono a disposizione di altre coppie in difficoltà. C'è chi aiuta le famiglie dei bambini ricoverati all'ospedale Gaslini a trovare una sistemazione per le degenze lunghe. Sono oltre 30 le associazioni che si occupano di famiglia nell'Arcidiocesi di Genova. Marco e Maria Campio della Commissione Diocesana di Pastorale Familiare le hanno censite e descritte in un numero speciale del settimanale cattolico Il Cittadino. Il nostro tentativo è stato quello di raccogliere un'informazione di base molto semplice di cosa fa ogni associazione e poi fornire i dati perché ognuno possa mettersi in contatto con queste associazioni. In questi anni come ufficio famiglia abbiamo capito che dobbiamo valorizzare queste associazioni, conoscerle e soprattutto fare in modo che queste associazioni si conoscano tra di loro. Una parte di queste associazioni che nascono in più casi da movimenti e comunità ecclesiali si occupano nello specifico di formazione, ossia di accompagnare i nuclei familiari ma soprattutto le coppie in momenti particolari del loro cammino. Poi ci sono altre associazioni che più nello specifico offrono servizi alle famiglie. Spesso è proprio la condivisione tra famiglie perché l'esperienza nostra e di tante famiglie è che camminare insieme è più bello e più facile, è proprio un aiutarsi insieme. Quindi sì, anche le difficoltà ci mancherebbe, però è proprio la gioia di essere insieme. Questo si fa, si può fare anche attraverso le associazioni. È proprio un invito anche proprio a sapere che cosa esiste, a dire ecco, ho un amico che mi chiede qualcosa, io so come indirizzarlo, so come aiutarlo a non chiudersi in se stesso e a trovare qualcuno che possa effettivamente rispondere alle sue esigenze, insomma. E poi anche le famiglie che scoprono un aspetto, un carisma di un movimento, di un'associazione che l'aiuta a crescere, a fare relazione, è giusto che lo segnali agli altri. Sono tutti aspetti che creano relazione, che fanno in modo che le famiglie non si sentano mai sole ma possano tra di loro fare rete.